la linea. Sì, buonasera dalla piazzetta che stasera è particolarmente animata e soprattutto è senza pioggia finalmente, malgrado il freddo glaciale. Allora Capri Hollywood, seconda giornata della decima edizione, non parliamo subito di cinema, parliamo di musica, infatti vicino a me c'è Ron che non ha certo bisogno di presentazione. Buonasera Ron. Buonasera a tutti. Allora, lei tra poco riceverà il Music Awards e lo riceverà per un progetto molto bello e molto particolare, un cd che si chiama Ma quando dici amore e che finanzia la ricerca. Sì, per la ricerca va tutto a favore dell'AISD, che è l'associazione italiana sclerosi laterale miotrofica, una malattia terribile che non ha terapia, per cui quello che potevo fare, visto che si era ammalato un mio amico, per cui mi sono avvicinata questa realtà terribile, era quello di mettermi a fare il mio lavoro e cercare di chiamare le persone a me più vicine, i miei colleghi, quelli che conoscevo e anche quelli che non conoscevo. Da Claudio Baglioni a Renato Zero, ad Anguna, a Lucio Dalla, a Elisa, a Carmen Consoli, a Giovanotti, a Loredana Bertè, a Nichi Nicolai, a Stefano Di Battista, a Carboni, a Versani, insomma, veramente hanno dato tantissimo con il loro cuore, abbiamo fatto 13 duetti e tutto questo è andato in vendita con il Corriere Magazine e cerchiamo adesso di far uscire anche nei negozi perché credo che la ricerca su questa malattia sia troppo importante. Sono qui e ho preso questo premio come miglior progetto di quest'anno. È un progetto che viene dal cuore. Come tutto quello che lei fa. Tra l'altro lei non è nuovo a iniziative, cioè la musica impegnata nel sociale, cioè la musica che fa concretamente delle cose. Credo che, voglio dire, la musica non debba essere solamente per noi che la facciamo un modo per fare un disco, poi fare la tournée, poi il disco e la tournée. Dobbiamo diventare un pochino più grandi, un pochino più uomini e aiutarci anche un po' di più, per cui la ricerca in questo momento ne ha tanto bisogno. Grazie, grazie di queste bellissime parole e del progetto e noi intanto torniamo al cinema. Vediamo alcuni momenti molto particolari di Capri Hollywood. Il premio come regista dell'anno per la seconda notte di nozze si aggiunge ai tanti che Pupi Avati ha collezionato nella sua lunga strada cinematografica. Sfoglia l'album dei ricordi Avati con il tocco lieve che lo contraddistingue, ma attingendo ai ricordi ci regala davanti a i dati su cui pensare. A Roma nel 68 si producevano 365 film all'anno, un film al giorno. Oggi non credo che se ne producano 40, non credo, meno. E di questi 40 credo che siano soltanto 20 quelli che escono. Si sfoglia anche un altro album ed è quello straordinario di Giuseppe Patroni Griffi. Capri Hollywood rende omaggio a Peppino con alcuni dei suoi compagni di strada, da Leopoldo Mastelloni ad Angela Luce e con le immagini che sono istantanee della nostra vita. Ma qui si sfoglierà un'ultima cosa stasera e domani un altro album dei ricordi. Sono ricordi bellissimi di Massimo Troisi perché ci sarà Michael Redford, il regista inglese, e ricorderà Massimo a dieci anni dal film Il Postino. La linea può tornare allo studio. Grazie Anna Teresa.